Bollettino numero 380 Il quartiere generale delle forze armate comunica Nostri veliboli da ricognizione avvistavano nel Mediterraneo occidentale un grosso convoglio nemico protetto da due navi da battaglia da una porta aerei e da un numero imprecisato di infacciatori e di piaccia tropeglieri Nostria è dei signor. Il bollettino numero 380 diramato stamane dal quartiere generale. Non vai a tenere le compagnie, andateci voi, io sto bene qui, ma non possiamo mica stare qui in tre a fare la corte, io sono arrivato per primo e non mi muovo. Mia madre e mia sorella. Mia madre e mia sorella. Mia madre e mia sorella. In un duello aereo sul cielo di Tovr, il caccia pilotato da vostro fratello è precipitato in fiamme. È caduto da valoroso. È parecchio, innanzitutto noi non potevamo immaginare che fosse tua sorella. Ma non parliamo di me, parliamo di voi. Di me? Sì, di voi e di me. Della sposo. Eh? Me, la sposo! Il tuo modo di comportarti è un'offesa per mia sorella e è una provocazione per me. Perciò ti proibisco, ti proibisco formalmente di rivolgere ancora la parola, capito? È che se io sono innamorato di voi e se vi voglio sposare, anche se ci fossero 40 fratelli non riuscirebbero ad impedirmelo. Non senti Mario, tu non mi conosci. Io scherzo, rido, prendo le cose allegramente, ma so anche essere un uomo. Un uomo con la testa apposta. Io voglio bene. Io non sono più dei vostri. Devo rinunciare al pilotaggio. Devo rinunciare al pilotaggio. Devo rinunciare al pilotaggio.